Noi siamo fermamente convinti anche del danno che la Lega in particolare ha fatto facendo cadere la delega fiscale e non approvando la delega fiscale. È stato l'ennesimo danno che la Lega ha fatto, un danno pesante e importante perché oltre a tutto quella delega fiscale era una delega che vedeva un consenso largo nel Parlamento del Paese. E guardate l'idea che si cambi il fisco ogni volta a botte di maggioranza e continuamente è la cosa peggiore che le imprese, i lavoratori, i titolari di partita IVA vogliono vedersi dire. Per noi questa scelta della Lega è una scelta grave perché dà l'idea del metodo con il quale intendono lavorare, un metodo sbagliato, un metodo che rompe il clima invece di consenso che si era creato. Per noi quella delega fiscale andava approvata e la scelta che hanno fatto è stata una scelta profondamente sbagliata, una scelta veramente profondamente sbagliata.